Un forte boato paragonabile quasi a un'esplosione, breve ma molto intenso. Questa è la descrizione che molti cittadini ravennati hanno fatto del terremoto che ha colpito la città pochi minuti dopo la mezzanotte e che è stato chiaramente avvertito in tutta la provincia e anche in diverse altre zone della regione. Una scossa di magnitudo 4.6 con epicentro a 11 km da Ravenna e situata a 25 km di profondità e che ha fatto letteralmente scattare dal letto tante persone che si sono ritrovate fuori di casa e dato lo spavento hanno preferito trascorrere la notte in auto. Il tutto mentre la terra continuava a tremare con altre scosse di minore entità che si sono ripetute più volte. Ho preso una gran paura perché così forte non l'ho mai visto e sono scappato, sono molto forte. Ho trovato giù da destra che ho visto il lampadario che ondeggiava e poi ho trovato i panni per uscire perché avevo paura che si ripetesse. Prima abbiamo sentito una botta che non avevamo capito niente, poi nella seconda abbiamo sentito come una cosa di carta che si muoveva tutto il palazzo. Quindi siamo tutti scesi giù, eccoci qua con una grande paura. Poi ci informiamo tramite i social, per fortuna abbiamo l'internet e così rimaniamo aggiornati sul da farsi. E proprio dai social è arrivato il primo messaggio del sindaco Michele De Pascale che ha provveduto a dare le prime rassicurazioni. Il terremoto, il più forte della storia recente per quanto riguarda Ravenna, non ha prodotto gravi danni. Non si registrano infatti feriti e tutto sembra sotto controllo anche per quanto riguarda edifici e abitazioni, anche se in via precauzionale si è optato per la chiusura delle scuole. E questo perché l'avvenimento sismico è stato di un appunto di una gravità importante e perché prima di far entrare i nostri bambini e i nostri ragazzi e le nostre ragazze all'interno delle nostre scuole vogliamo avere la certezza che vengano fatti tutti i controlli necessari a far sì che siano in totale e in assoluta sicurezza.